Battipagliese sconfitta di misura in trasferta sul campo dell'Audax Cervinara nell'andata degli ottavi di finale di Coppa Italia di eccellenza. A decidere il match a favore degli Avellinesi, il gol al 37esimo su calcio di rigore, fischiato dal direttore di gara per un fallo di mano di Iommasso, è realizzato da Befi con potenza. La gara di ritorno è in programma mercoledì 3 ottobre allo Stadio Pastena di Battipaglia.